prego ragazzi buonasera buonasera quella madonna quanti sono ciao capriolone oh l'altro qua ciao caro andiamo a dare la mano ciao ragazzi poi se vuoi anche aggiungerci come amici che le carichiamo anche nei nostri profili di chi potete fare tutto quello che volete sapete che non sono io che comanda ah no qua no non c'è parcheggio qua sopra qua sopra mi dispiace non c'è parcheggio ecco l'ho illuminato fantastico tu devi andare ciao ragazzi allora giusto che abbiamo fatto anche una diretta facciamo anche un video per ricordare che a campogrande sono tutti benvenuti tutti insieme anche gli animali non lo vedete ma eccolo lì questo è campo grande qui nessuno è bannato se rispetti le regole è un po' di più Grazie a tutti Grazie a tutti